buongiorno benvenuti di nuovo a questo nuovo appuntamento dei webinar di air che nella scuola nuovo progetto che appunto la fondazione uno dei nuovi progetti che la fondazione air per la ricerca sul cancro dedica alle scuole di ogni ordine grado sono tutti progetti come ormai sapete gratuiti che potete trovare sul sito scuola.air.it e se vi interessano in particolare i webinar ne abbiamo già fatti diversi alcuni sono abbinati anche a materiale scaricabile li potete trovare direttamente al link webinar scuola.air.it io sono valentina murelli sono una giornalista scientifica quindi giusto per presentarmi mi occupo appunto di scienze e prevalentemente di temi di salute di ricerca biomedica e come sempre in queste ultime settimane vi do il benvenuto da casa mia a pavia e do il benvenuto da casa sua a roma alla nostra ospite di oggi alla protagonista di questo webinar la ricercatrice air laura rosano ciao laura grazie di essere con noi benvenuta buongiorno a tutti grazie allora ovviamente quando air aveva pensato a questo progetto siamo partiti a ottobre più o meno dell'anno scorso l'idea era di presentare i ricercatori anche un po nel loro ambiente naturale quindi nello studio se possibile nel laboratorio ovviamente tutto ciò in questo momento di emergenza coronavirus non è possibile però insomma fondazione air che è il progetto per la scuola nella scuola cerca di non abbandonare le scuole gli insegnanti gli studenti quindi continuiamo a essere al vostro fianco con i ricercatori air che continuiamo a parlare di ricerca con loro prima di cominciare la nostra chiacchierata con laura volevo presentarvela un po meglio laura si è laureata in scienze biologiche all'università di roma la sapienza poi si è specializzata in patologia clinica oggi è prima ricercatrice al cnr in forza all'istituto nazionale dei tumori regioni regina elena scusate di roma dove dirige un gruppo di ricerca che si occupa di come le cellule tumorali si spostano si muovono diciamo dalla loro sede originaria per raggiungere altri distretti dell'organismo dando origine alle metastasi che sono uno degli aspetti più fasti come come sapete del cancro e vedremo quanto interessante questo ambito di ricerca che peraltro si basa su una capacità naturale delle cellule magari non ci pensiamo ma le cellule molte cellule in base al tipo in base al momento della loro vita si spostano si muovono per raggiungere la sede in cui naturalmente devono funzionare come sempre vi ricordo che potete interagire con noi in qualunque momento attraverso la chat del webinar quindi qualunque domanda di chiarimento qualunque curiosità vi frulli per la testa in durante questa nostra chiacchierata non esitate appunto a scrivercela potete farlo anche in un secondo momento sappiamo che magari interagire via computer non è sempre immediato e magari le domande poi vengono in un secondo momento quando si rielabora il tutto però appunto se se vi viene in mente qualsiasi cosa non siate timidi non abbiate timori noi siamo ben felici di rispondere soprattutto laura ovviamente e quindi cominciamo cominciamo a conoscere meglio la nostra ricercatrice laureata dicevamo in scienze biologiche però per conoscerti meglio no volevamo sapere vorrei sapere qualcosa del prima dell'università quindi che scuola hai fatto ma soprattutto quando è nata l'idea di occuparti di scienza cosa ti ha spinto a un certo punto a studiare proprio biologia allora intanto di oggi sono molto felice di parlare con voi di ricerche di ricercatori e spero di riuscire a trasmettervi tutto l'entusiasmo per il lavoro che ancora mi accompagna dopo tanti anni in realtà questa mia passione è nata proprio durante gli anni di università io da bambina sognavo come molti bambini di fare il medico mi piaceva pensare di fare la pediatra e mi vedevo col camice e lo setoscopio e quella era la mia passione giocare fare il medico da bambina e però ero portata anche per le materie scientifiche quindi decido di iscrivermi al liceo scientifico che comunque mi avrebbe permesso poi di frequentare medicina con tranquillità liceo inizio a studiare biologia biologia e lì si apre un mondo lo studio della cellula in anni in cui erano state fatte tantissime scoperte no sulla cellula come era una composizione e se vogliamo più dettagliata e soprattutto erano gli anni della scoperta del dna il progetto genoma mappare il nostro genoma sequenziare il nostro genoma quindi ne rimasti affascinata soprattutto l'idea di studiare la cellula il dna per poi capire le malattie quindi l'idea di studiare le malattie ma da un altro punto di vista dall'origine dai nostri mattoncini come siamo fatti fatta la nostra cellula come si comporta per poi arrivare a capire perché ci ammaliamo e come ci ammaliamo quindi è stato facile fare la scelta di biologia certo e quando hai capito poi durante invece il percorso universitario da un lato di volerti occupare di biologia del cancro dall'altro di fare di quel percorso anche poi una professione no quindi continuare la ricerca che magari si inizia nei momenti di tesi si iniziano a frequentare i laboratori e così via però continuare questo percorso e a un certo punto da grande fare la ricerca che dice allora io ho studiato biologia ma ho seguito un percorso fisiopatologico e biologia in realtà ti dà la possibilità di studiare tantissime materie diverse dalla zoologia alla botanica io ho scelto delle materie che erano molto vicine alla fisiologia umana alla patologia all'anatomia comparata quindi se vogliamo vicino al mio amore diciamo primario quello della della medicina e ho iniziato a frequentare un laboratorio di genetica umana per preparare la mia tesi e lì ho cominciato ad appassionarmi proprio dei laboratori di ricerca ci sono rimasta quasi due anni e tra l'altro lì ho conosciuto anche un ragazzo che poi è diventato negli anni mio marito che era già nel percorso della ricerca faceva lo studente dell'indottorato di ricerca quindi avevo la mia passione e la sua passione che in qualche modo mi guidava però ho capito da subito che avrei voluto fare una ricerca chiamiamola traslazionale c'è più applicata alla patologia dell'uomo e quale patologia potevo diciamo studiare se non il cancro perché tutti noi siamo stati colpiti in maniera più o meno vicina no da da questa malattia ahimè quindi ho deciso di andare all'istituto nazionale tumori reggine elena mi sono proposta candidata per una borsa di studio iniziato a lavorare prima in un laboratorio di biochimica poi di patologia molecolare e lì continuato a lavorare per tanti tanti anni perseguendo appunto questo questo interesse questa passione e allora due due cose su quello che hai detto intanto bellissima anche questa storia dell'incontro di un ragazzo che poi alla fine diventerà tuo marito succede effettivamente abbastanza spesso e nei laboratori di questi incontri che poi proseguono per più o meno per la vita ed è molto bello tra l'altro è testimonianza appunto del fatto che poi il ricercatore fa una vita assolutamente normale a volte c'è ancora quest'idea che il ricercatore no chissà chissà che vita strana debba fare invece no insomma è una persona normalissima e hai parlato di ricerca traslazionale quindi nella tua presentazione sul per il lancio di questo webinar abbiamo proprio scritto che ti occupi in modo specifico di questo tipo di ricerca quindi è una ricerca che sta molto attenta a un certo punto a trasferire quello che trovi in laboratorio quello che trovate in laboratorio in ambito clinico cioè proprio al paziente è così? Sì è così non ci limitiamo solo a studiare i meccanismi di base nel caso mio come le cellule si muovono come si ingegnano per riuscire a muoversi velocemente e a metastatizzare ma cerchiamo di capire come bloccare questi meccanismi magari con dei farmaci che bersagliano dei recettori specifici sempre nel mio ambito e sperando poi di passare dai risultati del laboratorio ai pazienti naturalmente non è una cosa automatica non è un passaggio immediato vogliono anni di ricerche, controlli, passaggi ma speriamo sempre di arrivare al paziente questo è il nostro obiettivo Certo, allora possiamo magari andare avanti con le slide ne abbiamo una appunto su perché è importante studiare il cancro ce lo hai ricordato questo ci riassume appunto l'importanza della ricerca biomedica Sì, mai forse come in questo momento noi possiamo parlare e abbiamo sentito parlare di ricerca e soprattutto di ricerca biomedica siamo stati colpiti come una dica che si è aperta immediatamente dal coronavirus e abbiamo capito però da tutto questo come accanto al lavoro dei sanitari quindi dei medici e degli infermieri è importantissimo il lavoro dei ricercatori perché il ricercatore ti aiuta a capire non solo come si comporta per esempio in questo caso il virus ma come possiamo fare per bloccarlo quindi possiamo cercare di guarire da questa malattia ma sicuramente si occuperà di coronavirus o si occuperanno di coronavirus i ricercatori esperti in quel settore noi che facciamo ricerca sul cancro dobbiamo anzi in questo momento ancora di più continuare a lavorare perché se noi guardiamo i numeri del cancro ci rendiamo conto che non siamo molto lontani dai numeri del coronavirus se cortesemente possiamo andare alle depositive precedenti vi faccio vedere giusto rapidamente alcuni numeri alla prima diapositiva ecco qui alcuni numeri tanto per renderci conto noi vediamo che tra le dieci cause di cancro al mondo ci sono riportati quelli degli Stati Uniti ma in realtà vale anche per tutti i paesi sviluppati al secondo posto abbiamo il cancro causa di morte causa di morte esattamente e tra l'organizzazione mondiale della sanità ci dice che al mondo ogni minuto muoiono 17 persone di cancro potremmo passare dai 18 milioni di malati nel 2018 a quasi 30 milioni nel 2040 se non facciamo qualcosa ma basta guardare in Italia quello che succede ogni giorno a mille persone viene diagnosticato il cancro ne muoiono circa 485 al giorno quindi sono i numeri che noi sentiamo questi giorni per il coronavirus quindi non abbiamo una dica che sia aperta ma abbiamo un fiume in piena che ogni giorno passa e colpisce quindi dobbiamo lavorare sempre di più perché la ricerca biomedica la prossima grazie la ricerca biomedica non è solo uno strumento di progresso perché grazie alla ricerca biomedica noi possiamo imparare tante cose ma è anche indispensabile poi per la salute e mi piace concludere con una frase del primo uomo che è andato sulla luna che la ricerca sta creando conoscenza e non c'è futuro senza ricerca certo assolutamente grazie per aver ricordato queste cose appunto ovviamente siamo tutti concentrati sul coronavirus in questo momento però tutto il resto che ha accompagnato le nostre vite fino all'altro ieri non è sparito al me e quindi ovviamente bisogna continuare ad occuparsene allora che cosa vuol dire però esattamente appunto fare ricerca lavorare come ricercatore come ricercatrice nel tuo caso che cosa fa il ricercatore? se dovessi paragonare il lavoro di un ricercatore a un'altra professione direi forse immagini un detective che lavora ogni giorno nel suo ambiente che è il laboratorio osserva, sperimenta, studia e utilizza le armi che è a disposizione che sono il microscopio, le provette, le conoscenze per cercare di appunto disarmare e combattere un nemico o malattie che in questo caso è il cancro ma diventare ricercatore non è una vocazione in teoria tutti possono fare questa professione con delle caratteristiche devi essere portata su certi aspetti cioè devi essere comunque una persona curiosa io dico sempre siamo sempre nella fase dei perché come i bambini, no? perché succede questo, perché succede quello e quindi essere curiosi, aver voglia di lavorare tanto osservare, sperimentare e lavorare con passione perché questo è un lavoro anche se vogliamo impegnativo impegnativo fisicamente ma anche mentalmente perché a volte noi i problemi del laboratorio le problematiche anche belle del laboratorio ce li portiamo a casa li trasportiamo in famiglia questo non vuol dire come dicevi tu giustamente prima che non puoi avere famiglia anzi prima di essere ricercatrice sono una mamma ho due ragazzi e ho la famiglia però chiaramente è un lavoro che non lasci il laboratorio a volte il pensiero lo porti anche a casa le problematiche le porti anche a casa è un lavoro un po' in salita per certi punti di vista perché viviamo in Italia abbiamo il problema delle poche risorse finanziarie la ricerca biomedica è una ricerca costosa c'è bisogno di tanto finanziamento per pagare le persone per comprare i reagenti spesso la nostra ricerca si basa solo sul sostegno di associazioni come l'associazione italiana ricerca sul cancro che crede in noi e ci permette di fare ricerca dallo Stato arrivano pochissimi soldi poi spesso è una carriera fatta di anni di precariato quindi la possibilità di avere un lavoro fisso in tempi molto lunghi quindi questa è una grande difficoltà però si può passare dalla fatica alle grandi soddisfazioni grandi o piccole soddisfazioni perché si possono raggiungere dei risultati che magari sono apprezzati perché vengono pubblicati bene perché sono apprezzati in un contesto internazionale meeting per esempio oppure lo condividi con i tuoi colleghi stranieri e alla fine i risultati del tuo lavoro grandi o piccoli che siano servono ad unire e a mettere un tassello in un mosaico molto grande e che è quello proprio della cura del cancro si imparte sicuramente da una conoscenza che si acquisisce durante gli anni di università ma poi la professione la impara in laboratorio impara in laboratorio proprio il metodo scientifico è quello di partire dall'avere un interrogativo che nasce proprio dalle conoscenze di base ma anche le conoscenze studiando, confrontandoti e poi partendo da un'ipotesi di lavoro un'organizzazione sperimentale fare un po' la scaletta di come portare avanti gli esperimenti in un determinato tempo e con le risorse che si hanno a disposizione per poi avere dei dati e giungere a delle conclusioni questo è una cosa importante è un lavoro di squadra un lavoro di squadra perché insieme si raggiungono degli obiettivi di squadra e tra l'altro in questo momento per fare una ricerca fatta bene c'è bisogno di competenze diverse abbiamo il biologo, il medico il bioinformatico, il biostatistico l'ingegnere biomedico tutti insieme curiamo proprio per raggiungere quegli obiettivi e quindi alla fine l'obiettivo è quello comune cercare di trovare dei target per colpire il tumore certo, grazie grazie mille per questa descrizione che è molto completa, molto esaustiva secondo me riassume molto bene quelli che sono effettivamente l'impegno, la passione, le soddisfazioni gli ostacoli della carriera del ricercatore mi è piaciuto molto quella parte in cui dici che tu sei uno scienziato i giovani, i ragazzi, i bambini alla fine ragionano proprio come scienziati ed è effettivamente così magari appunto può sembrare una professione e lo è una professione difficile, impegnativa, faticosa però è esattamente quello che fa il ricercatore quello che fa il bambino che sta crescendo che si guarda intorno e comincia a chiedersi ma perché il sole fa così, la luna fa così insomma tutte queste domande sono quelle che poi costellano la vita del ricercatore ed è vero che se le porta a casa ma è esattamente quello che fa il bambino che osserva il mondo che non smette di chiedersi come funziona solo perché è a casa o sta giocando allora cominciamo ad avvicinarci invece al tuo argomento di studio e quindi cominciamo appunto da questa malattia dal cancro che cos'è dal punto di vista cellulare e molecolare abbiamo tutti idea che sia una malattia più o meno come sia fatta però dal punto di vista cellulare e molecolare ha delle caratteristiche molto particolari di cosa si tratta? Allora quando parliamo di cancro come ho cercato di riassumere in questa diapositiva in realtà parliamo di tantissime malattie quasi cento perché in realtà può colpire organi e tessuti diversi si presenta in maniera diversa viene diagnosticata in maniera diversa e viene curata in maniera diversa in base al tipo di cancro oggi poi c'è una componente importante che abbiamo capito negli anni cioè la componente personale l'eterogenità che nasce proprio da come è fatto l'individuo quindi la base genetica la fisiologia di ogni individuo parliamo di medicina di precisione che tiene conto del fatto che per lo stesso tipo di tumore dobbiamo curare in maniera diversa gli individui perché rispondono ai farmaci in maniera differente proprio perché hanno una base genetica diversa questo rende anche la cura più complessa però è una sfida questa molto importante però nonostante tutto abbiamo cercato di identificare delle caratteristiche che ci permettono comuni che ci permettono di identificare quando una cellula è una cellula tumorale noi partiamo dal fatto che le cellule tumorali sono cellule normali nel nostro organismo che hanno subito delle modificazioni delle mutazioni in quello che è il loro materiale genetico il DNA non è altro che un libretto di istruzioni che dice alle nostre cellule come si devono comportare quando ci sono delle mutazioni le cellule non riescono più a leggere il libretto di istruzioni e quindi cominciano a diventare definiamole così cellule impazzite che sfuggono proprio ai meccanismi di controllo alle regole a cui devono sottostare nei tessuti dove stanno che è un po' quello che succede in una famiglia in una classe, in una società noi siamo tutti individui liberi ma dobbiamo sottostare a delle regole di sana convivenza se qualcuno di noi si comporta in maniera sbagliata non rispetta più le regole crea del danno agli altri hai parlato di proprietà comuni del cancro hai fatto questo quadro molto chiaro da cui si evince che il cancro non è una malattia sono tantissime malattie diverse il che ovviamente complica la ricerca da un lato e l'individuazione delle terapie dall'altro però qualcosa di comune c'è a tutte queste malattie ci ricordi di cosa si tratta? sì, ho cercato di fare uno schema riassuntivo che in realtà non è esaustivo di tutto perché ormai abbiamo anche altre caratteristiche per brevità ho messo queste che sono quelle classicamente riconosciute la capacità di crescere in maniera autosufficiente senza rispettare appunto il via passando dal via la capacità di sfuggire a tutti quei segnali che dicono adesso non devi più crescere quindi alla soppressione cellulare l'evazione dalla morte cellulare programmata nel nostro organismo c'è tutto un equilibrio in cui cellule che hanno subito dei danni vanno incontro a una morte programmata proprio per evitare dei problemi le cellule tumorali riescono a sfuggire a questa morte cellulare programmata inoltre si ingegnano per far formare nuovi vasi sanguigni che danno al tumore tutto quel sostegno così in qualche modo alimentano il tumore stesso poi abbiamo un potenziale replicativo illimitato perché queste cellule non si fermano continuano a proliferare e poi l'aspetto che più mi interessa è quello della capacità di lasciare il tumore primario e migrare verso altri tessuti cercando di formare delle metastasi quindi di colonizzare nuovi tessuti certo e perché è importante conoscere in dettaglio tutte queste proprietà? è importante conoscere queste proprietà perché intanto capiamo come queste si originano ma capiamo anche quali sono gli stimoli che favoriscono queste proprietà quindi noi dobbiamo cercare di trovare il tallone di Achille proprio in queste proprietà e una delle sfide aperte proprio nella ricerca su cancro è quella di trovare per esempio delle proteine che sono espresse in maniera diversa nelle cellule tumorali rispetto alle cellule normali e utilizzare come dei bersagli quindi bersagliando questi recettori queste proteine di membrana noi cerchiamo di uccidere la cellula tumorale questo è quella che viene definita target therapy certo tra l'altro volevo ricordare a chi ci segue che delle caratteristiche delle cellule tumorali e di appunto come avviene il percorso che porta dalla cellula normale alla cellula tumorale abbiamo parlato in uno dei nostri primi webinar fuori controllo con la ricercatrice AERC Simona Polo per cui se volete recuperare anche quelle informazioni di base alle quali puoi associare invece queste più specifiche su una in particolare di queste proprietà potete farlo tranquillamente e adesso appunto entriamo nel vivo della tua ricerca come abbiamo anticipato ti occupi dei meccanismi che permettono alle cellule tumorali di spostarsi di muoversi ma che cosa succede esattamente? allora il tumore primario quello che è definito il tumore principale è fatto da un insieme di cellule queste cellule sono tutte cellule tumorali ma hanno una piccola parte di loro una frazione veramente piccola ha una marcia in più cioè può acquisire delle possono acquisire delle capacità e si possono scegliere per poter allontanarsi dal tumore e andare come dicevo prima verso altri organi eseguono un percorso che viene chiamato proprio il percorso di diffusione metastatica è un percorso ad ostacoli perché è come un viaggio in aereo noi ci mettiamo sull'aereo e vogliamo raggiungere un altro posto abbiamo degli ostacoli le togane le barriere barriere di tutti i tipi e le cellule tumorali quelle proprio che dicevo hanno una marcia in più sfuggono si allontanano dal tumore primario e trovano degli ostacoli loro riescono a superare questi ostacoli quindi invadono prima il tessuto circostante e raggiungono poi quelle che sono i vasi o sanguigni o linfatici noi sappiamo che i vasi sanguigni raggiungono tutti gli organi del nostro corpo quindi entrando in circolo loro riescono ad andare un po' dappertutto quindi entrano ed escono dai vasi sanguigni e raggiungono poi altri tessuti lì dove trovano tessuti che accolgono queste cellule ed entrano a volte anche in accordo con delle cellule che stanno in questi tessuti cominciano a proliferare a crescere e a dar vita alle metastasi questo viene definito proprio la cascata metastatica noi abbiamo compreso negli anni tantissime cose conosciamo tanti dettagli e tanti particolari di questi processi è un processo lungo e complesso anche se vogliamo difficile in alcuni casi può interessare anni nel senso diciamo da quando le cellule si staccano dal tumore primario fino alla formazione di metastasi sono anche difficili da trovare da identificare perché stanno nelle parti più intime del corpo sono difficili magari anche da curare perché in realtà hanno formato colonie metastatiche un po' diffuse queste cellule che sono riuscite diciamo a superare tutte le barriere quindi è un processo complicato ma ce la fanno evidentemente purtroppo ce la fanno ma per fortuna state studiando esattamente tutti i passaggi di questo processo complicato per trovare quei famosi punti deboli e talloni d'Achille anche di cui abbiamo parlato rinnovo l'invito se c'è qualcosa di non chiaro o se c'è qualche pensiero qualche idea qualche domanda che comunque volete formulare a scrivere sulla nostra chat non preoccupatevi vedete che siamo molto tranquille e rispondiamo serenamente allora in tutto questo percorso tu e il tuo gruppo di ricerca studiate qualcosa di molto particolare di specifico dal nome un po' strano gli invadocodi che cosa sono? forse un pochino ce lo suggerisce il nome che cosa facciano queste strutture però vediamo di che cosa si tratta allora quello che abbiamo capito e trovato sia il mio gruppo che altri ricercatori che si occupano dello stesso argomento è che in realtà le cellule tumorali aggressive utilizzano una strategia che è utilizzata in realtà anche dalle cellule normali per esempio alcune cellule del sistema immunitario che devono velocemente raggiungere per esempio un tessuto che è stato infettato oppure che è stato danneggiato e lo fanno creando delle estensioni della membrana cioè come dei tentacoli verso le regioni che circondano il tumore questi tentacoli che si chiamano invadopodi nelle cellule tumorali e che in realtà nelle cellule normali si chiamano podosomi servono proprio a tastare il terreno circostante a capire cosa succede e la formazione di questi invadopodi è un meccanismo importante un meccanismo di iniziazione proprio di quel processo metastatico perché come funzionano questi invadopodi quindi la cellula forma questi tentacoli si allunga nello spazio circostante e proprio nelle regioni dove si sono formati questi tentacoli comincia a secernere delle proteine degli enzimi che hanno la capacità di tagliare la matrice extracellulare quindi i componenti che circondano il tumore creando dei tunnel come delle scavatrici che formano dei tunnel e quelli sono proprio delle vie di fuga perché in questo modo le cellule entrano in questi tunnel si possono allontanare e nello stesso modo entrare e uscire dai paesi sanguigni come dicevamo prima questo è un processo importante che abbiamo visto e usano alcune delle cellule tumorali più aggressive e poi le altre possono seguire questo percorso creato da questi primi pionieri diciamo del trasferimento della mobilizzazione e come fate a studiare queste strutture che tipo di strumentazioni e di sperimenti fate per allora innanzitutto noi cerchiamo di fare una ricerca che sia molto vicina a quello che succede nel paziente dove è possibile noi utilizziamo delle biopsie che vengono direttamente dai pazienti e da queste biopsie estraiamo le cellule isoliamo le cellule tumorali quindi prendiamo quelle più aggressive isoliamo quelle più aggressive e lo studio principale che facciamo è quello di fare un'osservazione un'analisi soprattutto tramite la microscopia fluorescenza nel senso che noi identifichiamo la presenza la localizzazione il movimento di proteine per esempio dentro la cellula utilizzando delle sostanze fluorescenti che vanno a marcare proprio quelle proteine specifiche la prima cosa guardiamo la morfologia di queste cellule osservando il citoscheletro che è un po' come il nostro scheletro è fatto da filamenti proteici che danno l'impalcatura e ne danno la forma quindi vediamo quando il citoscheletro ha cambiato forma e magari ha creato anche i tentacoli no? gli invadopodi insieme alla membrana poi andiamo a vedere se in questi tentacoli che dicevo prima ci sono le proteine che noi cerchiamo che sono i marcatori specifici e dei invadopodi come vediamo qui quindi li coloriamo in maniera diversa e diciamo bene si sono formati i tentacoli e lì in quel punto può essersi formato l'invadopodio però per essere certi dobbiamo capire se in realtà questi tentacoli digeriscono una membrana quindi facciamo proprio dei test funzionali dove vediamo la degradazione della matrice la capacità delle cellule di muoversi sia in due dimensioni che in tre dimensioni o anche mimiano quella che è il meccanismo di entrata nei vasi sanguigni che dicevo prima o di uscita quindi intravasazione o extravasazione quindi mentalmente noi abbiamo delle competenze di biologia cellulare naturalmente biochimica e anche di immunofluorescenza quindi di microscopia abbiamo comunque anche una collaborazione con degli ingegneri biomedici che ci aiutano ad interpretare fisicamente con delle leggi proprio di fisica quello che succede nello spazio che circonda il tumore perché quando si crea un tunnel è come la costruzione di una galleria c'è tutto uno studio per vedere che cosa succede intorno perché lì si è creato un buco quindi c'è un movimento un assestamento e questi ingegneri ci aiutano a capire che cosa succede poi nel tessuto circostante e se i cambiamenti che ci sono intorno a queste cellule possono influire anche sulla motilità di queste cellule quindi un aspetto nuovo se vogliamo interessante anche no? Molto interessante questo aspetto della multidisciplinarietà e della collaborazione con professioni che magari sembrano lontane dalla ricerca biomedica in un certo senso invece anche l'ingegnere può aiutarci a capire che cosa succede a un livello così microscopico del nostro organismo e volevo chiederti di ripuntualizzare un attimo lo hai spiegato molto chiaramente però siccome è un punto importante un punto appunto metodologico importante magari facciamo il punto su questa immunofluorescenza cioè esattamente come funziona ci sono delle molecole colorate con cui trattate le cellule cosa siamo generalmente dei coloranti che vanno a riconoscere delle proteine specifiche quindi coloriamo una proteina A per esempio con un colorante con una sostanza fluorescente che apparirà in rosso un'altra in verde un'altra in blu un'altra in giallo quindi riusciamo a vedere contemporaneamente dove sono posizionate le proteine che vengono alla fine appaiono colorate in maniera differente con queste sostanze fluorescenti per esempio la matrice noi la vediamo qui in questa diapositiva l'abbiamo colorata una volta in verde una volta in rosso dove c'è stata la degradazione vediamo proprio il buco nero lì c'è stata la digestione della matrice in bianco vediamo un marcatore che si chiama cortactina adesso diciamo un nome un po' complicato che si localizza proprio in prossimità della zona di degradazione in rosso vediamo invece per esempio sulla destra il citoscheletro i filamenti di actina quindi noi usiamo delle sostanze fluorescenti che vanno a marcare in maniera specifica delle proteine quindi vediamo anche come si muovono queste proteine grazie grazie mille questa slide parla di specifici recettori di membrana qui dove siamo che cosa aggiungiamo al discorso qui siamo nello specifico nell'argomento della mia ricerca abbiamo capito che spontaneamente le cellule tumorali non formano invadopodi ma hanno bisogno di stimoli fisici o chimici questi stimoli possono essere anche quelli provenienti da fattori di crescita noi vediamo cerchietto in rosso il recettore che noi abbiamo identificato che si chiama recettore dell'endotelina che è espresso in maniera abberrante sulle cellule tumorali in particolare del tumore dell'ovaio io studio questo tipo tumorale quando questo recettore è attivato da un fattore che le cellule stesse tumorali producono allora le cellule tumorali formano invadopodi lo vediamo per esempio quelle nella parte superiore a sinistra vediamo le cellule dove il recettore non è attivato migrano poco invadono poco sia in 2D che in 3D nella parte inferiore vediamo che hanno invaso molto di più e hanno formato anche delle ramificazioni che sono le cellule che si stanno staccando da questa massa primaria che un po' imita il tumore primario verso la matrice dove noi le abbiamo messe e lo stesso nella parte sinistra in basso vediamo le cellule dove il recettore è attivo che hanno digerito e degradato la membrana quindi questi sono dei test funzionari che ci dicono che quando il nostro recettore è attivato le cellule sono più propense a formare invadopoli e quindi ad invadere e metestatizzare di più ecco dicevi il recettore espresso in modo aberrante sulla superficie di alcune cellule tumorali cosa significa espresso in modo aberrante che ce n'è di più che ce n'è di meno di più di più e viene identificato diciamo attraverso o degli esperimenti di biochimica o anche qui con delle sostanze fluorescenti legate a degli anticorpi che riconoscono questo recettore perfetto tutto chiaro ripeto se avete domande fatevi avanti perché non è semplicissimo insomma Laura Rosano si sta esprimendo in modo veramente molto chiaro però insomma il tema è abbastanza complesso è in dubbio e quindi se c'è qualche dubbio fatevi avanti che cosa avete scoperto insomma con questa ricerca sugli invadopodi sui recettori e così via abbiamo scoperto che noi siamo limitati solo a studiare questo meccanismo a capire che il recettore attiva gli invadopodi ma stiamo cercando di capire come poterlo bloccare per bloccare la formazione degli invadopodi ed il processo metastatico quindi noi abbiamo testato stiamo testando dei farmaci che vanno in qualche modo a bloccare il recettore entrando in competizione con il fattore proprio del recettore quindi noi mettiamo il farmaco il recettore viene bloccato e il peptide in qualche modo che attiva il recettore non si può più legare abbiamo visto che alcuni farmaci specifici riescono a bloccare la formazione degli invadopodi le cellule praticamente non riescono più a invadere e quindi speriamo di poter riuscire a portare questi farmaci proprio in clinica per bloccare la fase iniziale di migrazione delle cellule di movimento delle cellule dal tumore verso la nicchia metastatica questo è il nostro obiettivo siamo sulla buona strada ma c'è ancora tanto da lavorare certo c'è sempre tanto da lavorare quando si passa da queste scoperte poi alla definizione del farmaco insomma sapete che ci sono poi delle strade piuttosto lunghe per arrivare ad avere un farmaco che effettivamente funzioni sia sicuro e possa essere usato con tranquillità ecco abbiamo aperto questa chiacchierata con una slide che ci mostrava l'impatto dei tumori sulla popolazione nel mondo e in Italia abbiamo sottolineato l'importanza della ricerca adesso appunto queste tue ultime parole ci aprono la prospettiva sulla possibilità appunto di mettere a punto nuovi farmaci individuare nuovi bersagli e mettere a punto nuovi farmaci però c'è un'altra cosa che la ricerca ci ha insegnato in questi anni cioè che oltre che sulla terapia che è fondamentale ovviamente c'è un altro affetto sul quale bisognerebbe lavorare per combattere il cancro sì abbiamo imparato proprio da anni di studio anni di raccolta di dati di studi epidemiologici che in realtà oltre alla nostra componente genetica e fisiologica c'è tutta una parte è quello che noi mangiamo come ci comportiamo le sostanze chimiche a cui siamo esposti tutto questo rappresenta praticamente un fattore di rischio per lo sviluppo del tumore che cosa vuol dire? vuol dire che singolarmente questi aspetti non provocano il cancro ma aumentano la probabilità che questo avvenga e oggi possiamo dire che se tutti adottassimo uno stile di vita sano corretto potremmo ridurre la comparsa di un cancro un caso di cancro su tre quindi vuol dire che noi possiamo intervenire abbiamo una grande capacità di intervento da questo punto di vista perché noi conosciamo bene dei meccanismi e sappiamo anche come questi fattori esterni modificabili tra l'altro possono interagire con la nostra diciamo con il nostro background genetico per poter sviluppare il cancro e comunque aumentare la probabilità e il rischio che questo avvenga e qui c'è una tabella riassuntiva che non ci dice nulla di nuovo perché ormai lo sentiamo tantissimo tantissime volte che il fumo fa male ma fa male seriamente perché il fumo è un fattore di rischio non solo per il tumore del polmone ma per moltissimi altri tumori oggi sappiamo bene cosa c'è dentro il fumo di sigaretta sappiamo benissimo che fumare un pacchetto di sigaretta al giorno equivale a bere proprio un bicchiere di catrame ci sono sostanze cancerogene all'interno più di 300 sostanze chimiche diverse alcune cancerogene altre potenzialmente cancerogene ma c'è anche la nicotina la nicotina che non dà solo dipendenza psicologica ma la nicotina ha dei recettori sull'epitelio polmonare che praticamente quando vengono attivati inducono e spingono le cellule tumorali a crescere e ad invadere poi abbiamo l'obesità per esempio l'obesità è un fattore di rischio importante tra l'altro quello che si sta sapendo in questi ultimi anni che le cellule gli adipociti delle persone obese proprio sono amiche delle cellule tumorali le aiutano proprio a crescere ad invadere e nello stesso tempo tengono lontano il sistema immunitario da un intervento quindi effettivamente bisogna ridurre l'obesità nella popolazione in generale l'alcol da solo insieme al fumo i raggi ultravioletti una dieta sbagliata una mancanza di attività fisica questo non vuol dire né che non possiamo mangiare qualche volta patatine fritte o bere coca cola oppure una scorpaggiata di dolci non significa questo significa una dieta equilibrata quindi insieme a un cibo che fa male provo a aumentare magari i cibi amici no? la verdura la frutta aumentare l'uso di carni bianche quindi possiamo fare qualcosa cosa possiamo fare per fare prevenzione una sala alimentazione non abbiamo la dieta mediterranea e siamo fortunati perché in realtà è una dieta semplice efficace e che ci può aiutare in questo stare lontani dal fumo sempre fare attività fisica che vuol dire non essere atleti ma fare attività regolarmente stare lontani dall'alcol e al sole con precauzione quindi mi permetto di concludere che la prevenzione è l'arma migliore per evitare il cancro e la ricerca è lo strumento per vincerlo certo grazie grazie mille tra l'altro tutto quanto hai detto adesso in quest'ultima parte relativamente alla prevenzione non è qualcosa da immaginare come per un lontano futuro uno ascolta oggi questo webinar e pensa va bene quando avrò 50 anni allora magari mi preoccuperò di una serie di cose in realtà le ricerche ci dicono anche che il sano stile di vita le sane abitudini di vita insomma prima vengono adottate e meglio è da questo punto di vista sempre in quest'ottica che dicevamo prima cioè che non è la singola cosa che fa impazzire tutto il sistema però una ripetizione insomma continua per tutto l'arco della vita può effettivamente costituire un problema allora abbiamo una domanda Claudia ci chiede una cosa rispetto a quest'ultimo tema prevenzione e anche fattori di rischio soprattutto fattori di rischio perché ci chiede l'inquinamento diffuso quanto concorre all'insorgenza del cancro perché abbiamo parlato di comportamenti individuali anche il fatto di fumare il fatto di fare più o meno attività fisica anche se poi è sempre difficile distinguere tra il comportamento individuale quelle che possono essere le pressioni sociali o la mancanza di un contesto adeguato però nel caso dell'inquinamento è ovviamente qualcosa che difficilmente produce il singolo l'inquinamento diciamo esterno vogliamo l'inquinamento atmosferico sicuramente uno dei fattori di rischio sul quale noi possiamo agire solo in parte questo fa parte anche di quelli che sono i fattori esterni che possono aumentare quelli che le mutazioni del DNA i danni del DNA e il tumore non è altro che la probabilità che si sviluppi a partire da una singola mutazione una mutazione dietro l'altra certo gli aspetti è un aspetto importante un problema globale che in parte si sta cercando di affrontare ma noi possiamo lavorare nel nostro piccolo e fare prevenzione diciamo a tavola o con il fumo i fattori ambientali sono estremamente importanti l'abbiamo visto soprattutto per quei tumori per esempio in alcuni ambienti di lavoro quello in qualche modo l'ambiente di lavoro in piccolo ricapitola quello che succede poi su larga scala per esempio i mesoteliomi e i tumori dovuti all'amianto certo assolutamente invece abbiamo una domanda da parte di Patrizia più specifica rispetto a quello di cui hai parlato e volevo chiederti che cosa sono esattamente i recettori e come funzionano i recettori sono delle proteine che stanno sulla membrana delle cellule generalmente sono recettori di membrana questi vengono attivati da segnali che sono specifici come possiamo dire come una chiave il segnale che accende e apre una porta la chiave che apre una porta la porta il recettore e il segnale quello che viene dall'esterno quindi quando il segnale viene ricevuto dalla cellula il recettore attiva una serie di eventi intracellulari quindi si attivano altre proteine all'interno della cellula che mandano fungono da messaggeri quindi vanno dalla membrana più esterna fino all'interno fino al nucleo fino al DNA e lì questo messaggio poi viene tradotto per esempio nella produzione di determinate di altre proteine che servono proprio per esempio per invadere per crescere per formare nuovi gasi questo è molto generale certo no no è molto chiaro e a proposito di chiarimenti anche sulla matrice extracellulare in realtà hai accennato qualcosa però ricapitoliamolo che cos'è esattamente la matrice extracellulare è fatta da molecole molto grandi che sono per esempio il collageno la fibronectina sono delle grandi macromolecole che si dispongono e formano come una rete di protezione all'interno delle quali le cellule vengono posizionate e sono anche una barriera fisica quindi un sostegno per l'esterno della cellula è anche una barriera fisica e queste proprio quando vengono digerite si crea proprio il passaggio come posso dire una rete fitta di proteine ok grazie grazie mille una curiosità mia invece che non c'entra tanto con il lavoro esattamente ma con il contesto visto che hai conosciuto tuo marito in laboratorio lavorate ancora insieme no perché io l'ho conosciuto nel laboratorio di genetica e sono andata via di là perché volevo fare altro lui fa genetica di base è rimasto lì e ha seguito la carriera universitaria quindi adesso insegna genetica all'università ma siamo distanti come argomento praticamente distanti grazie io ringrazio tantissimo Laura Rosanò di essere stata con noi di averci condotto in questo percorso sulla vita appunto del ricercatore sul funzionamento un pochino dei laboratori ma anche soprattutto sul suo argomento di studio specifico quindi queste cellule che dal tumore primario si spostano attraverso queste strutture particolari l'invadopodi attraverso la sollecitazione di questi recettori di cui abbiamo parlato fino a dare origine alle metastro anche dei tentativi che sta facendo con il suo gruppo di ricerca di individuare dei farmaci che possano bloccare questo processo che è uno dei primi passi appunto per dare origine alla formazione della metastasi e anche alla fine per averci ricordato quanto è importante quanto è fondamentale sempre il discorso e l'attenzione sulla prevenzione grazie davvero per essere stata con noi e io ricordo che come sempre potete inviarci le vostre domande anche in un secondo momento le gireremo a Laura e insomma vi daremo le risposte in tempi rapidi magari potete riascoltare il webinar e se appunto avete vi viene in mente qualcosa su cui soffermarvi qualcosa su cui vorrete sapere di più basta che scriviate un'email all'indirizzo info chiocciolascuola www.airc.it e troverete risposte alle vostre domande grazie davvero e alla prossima occasione grazie Valentina e grazie a tutti i partecipanti e grazie ad AIRC grazie a tutti i partecipanti grazie a tutti i partecipanti grazie a tutti i partecipanti grazie a tutti i partecipanti